E' un video che oggi non lo sa, quindi di lasciare la partita. Oggi più che mai, l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Fidati dei professionisti. Fidati dei professionisti. Fidati dei professionisti. Grazie a tutti. 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 No, no.